ciao a tutti ragazzi siamo ritornati con un nuovo indie game allora questo si chiama slenderman must die underground bunker con titolo un po più corto potevano metterlo però questo sembra un po più serio diciamo cerchiamo di prendere un po più seriamente vediamo allora andiamo diciamo subito su play e vediamo cosa succede fin da tricky card trovare le chiavi per cedere a loading ok perché ho un piede di porco ci chiediamo nulla andiamo proseguiamo vediamo cosa posso giocare io certo prego militari vai ammazza il militare se carichi e se cari sulla montagna però secondo me non sale ma solo prendono dietro la schiena mica tanto secco prende il fucile poi morto calo tutti adesso è punzecchiato al culo ok falli secchi la veste che cazzo di slender è questo a madonna alle guanti neri roba seria abbiamo qua come cazzo cammina guardalo è come quell'altro slender man must die ricordi questo invece sembra che ci abbia una scopa in culo scusami eh spastico spastico adesso ho capito quello che aveva le gambe per aria modello carla fraccio guarda che non è skyrim non c'è niente qua dentro c'è un'arma dietro vuoi provare a aprirlo si apre ecco arrivato scopo in culo ma scusa ma dovrebbe farmi più paura a lui o con gli altri con i fucili non si capisce ma secondo me con gli altri con i fucili e anche secondo me ma solo per curiosità quanto mi leva muori se ti tocca sicuro si non riesci neanche a prenderlo fa lo stesso per te c'è mongolo questo qua sembra la madonna e va che spoligonata guarda che non ci sia la chiave qua dentro allora si apre solo con il nato si interagisco qua gli sembra di perché prende quello sotto ma in realtà apre sempre quello su esatto prendi il corpo di tutto vai terza keycard perfetto occhio allo slender che adesso apparirà sicuramente ok calcolate to go go to muori quindi di entrare qua wow perfetto cioè perché quando la fai tu sono tre chiave quando tocca a me sono otto dvd adesso prenderemo il bazooka prenderemo visto che siamo arrivati ma non ci credo che per forza la madonna bello a poi l'invitazione dell'inizio perché guarda e guarda quel lavoro lì di fianco sulla sinistra effetti speciali veramente molto speciali alla f la f la f mia non chiuderemo no magari se devi scappare da lì cosa fa con una no dai la mia speriamo quello non l'ho fatto secco io poi è piegato a 90 eh sì ma questo fusione lo prendo lì grazie oh madonna i gubi ok qua non ha non ha dato armi abbiamo le caldaie le caldaie cosa si fa questo qua dietro la caldaia un camper si stava fumando un cannone te lo dico io non si vuole far vedere dal capo questo lo posso prendere guarda bene lì l'orsetto con la maschera a gas andiamo bene oh fuori cazzo la madonna no eh vabbè il tg mod cosa sono birra eh posso bere la birra no sono scattato fuori fuori si ha scoperto tenersi la madonna di morire eh ah è morto non lo puoi togliere però le pelotas e dov'è ecco finite le palline cosa c'è qua ecco armi ma perchè gli ha messo la maschera a gas eh addio vediamo se c'è un tv di qua sempre ancora questo qua con la maschera a gas si oh ah ah ma vaffanculo ti sparo nel culo di sparto non spargare munzioni ma vabbè ma ne ho riprendo ma chiavi chiavi ma cosa fai ho sbagliato vedete lì eh l'ho aperta l'ho aperta eh ecco faciti ecco facciamo l'ho aperta che fai eh 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 ma perché mettono meno lui facciamo lo slendy senza palle ancora una bella scatola di fagioli brillante l'orsetto con la maschera che non si capisce perché gli hanno messo la maschera a casa qua tutti i colori tutte le cose diventano scure quando ti sposti un altro si allargano gli orizzonti un'altra ancora ok quale c'è allora però si compare da dietro si ma compare da dietro ma è stronzo però fa male allora da che parte andiamo no e vabbè fappa ah si che c'è mai ma se si piega si piega cazzo si piega cazzo ma è rotto il cazzo no no allora è bello che è si piega tantissimo guarda sembra una sottiletta e quando salta eeeh fa dei salti esagerati niente qua non c'è niente andiamo nell'altra stanza ah bello dietro guardati dietro c'è lo slender che non sta bene qua è lo slender con la scogliosi questo apri apri che è tempo eeeh la madonna se niente è in bocca per aprirla guarda eh stavo guardando a modo se non c'era qualcosa salta lì asalto guarda non mi preoccupo salta come un canguro niente ok ando giù giù per la scala ah uno di 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 eh una volta non ho mai fregato bello adesso vado a prenderci c'è la chiave là su però aspetta un attimo che prendiamo a modo qua c'è niente ok andiamo giù si ha messo le scale ma si può anche fare senza ho preso le chiavi adesso si incazzerà lo slender verrà fuori ancora ecco andiamo lì per il mercato cazzo quanta roba ah guardati dietro se magari ce n'è ok attraversate il muro cavolo la porta ok siamo all'ipermercato compriamo fagioli poi fagioli poi fagioli e infine fagioli ma non ho cazzo di senso beh io che devo fare c'è io ho fatto tutta la strada per arrivare a prendere il 50% di sconto sui fagioli i pomodori e le limonate ma non ho parole giusto per cambiare un po' di fagioli così scorreggiamo tutto il giorno che cazzo di fagioli che cazzo di fagioli la puoi anche droppare l'arma si l'hai droppata in volo ok ragazzi noi ci fermiamo qui questo gioco ci ha trollato molto bene perlomeno noi non sappiamo come andare avanti se voi sapete dirci dove cazzo dobbiamo andare lo facciamo molto volentieri noi intanto con slender underground come cazzo si chiama slender must die underground ecco noi vi salutiamo e ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti allo